Un riconoscimento per la lunga attività artigianale che svolge da oltre 80 anni sarà consegnato il prossimo 2 dicembre dalla Camera di Commercio dell'Aquila al mago delle chiavi Pietro Carosa per tutti zio Pietro che ogni giorno alza la seracinesca della sua attività di piazza Garibaldi diventata ormai il simbolo e l'icona della città, un pezzo di storia e di identità. Per Carosa, 94enne lucidissimo e spigliato, arriva il giusto e doveroso riconoscimento. Con la cerimonia di sabato 2 dicembre che si svolgerà presso l'aditorium del Parco all'Aquila la Camera di Commercio celebra l'impegno, la creatività, la dedizione al lavoro delle realtà produttive e del lavoro della provincia dell'Aquila assegnando ai protagonisti un pubblico riconoscimento per la fedeltà al lavoro e per la partecipazione attiva e rinterrotta alla vita e al progresso delle aziende rappresentandone con tempo un importante occasione di incontro fra le forze politiche e istituzionali e il mondo del lavoro. Chi meglio di Carosa incarna queste virtù nel suo angoletto della bottega di Santa Chiara ha visto crescere intere generazioni eppure di premi a testa di pubblici pochi ne ha avuti questo della Camera di Commercio è doveroso e riconosce quello che a Sulmona è, a tutti gli effetti, un maestro dell'artigianato Complimenti Zio Pied Complimenti Zio Pied Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti